Salve, oggi voglio parlare di nuovo di un argomento scientifico, di fisica, anche se a dire il vero è più qualcosa di carattere fantascientifico. In effetti si tratta di un argomento che ho riscoperto rileggendo un documento che ho trovato in una cartella del mio computer che tratta di studi sul teletrasporto. Io ho lasciato questo documento da parte, per molto tempo non ho voluto leggerlo perché forse per un po' ho pensato che fossero come delle sciocchezze, delle fantascienze appunto, cose irrealizzabili. Invece poi mi sono rimesso a leggerlo e ho scoperto che sono studi seri che sono stati condotti dagli scienziati negli Stati Uniti. In particolare questo documento si chiama Teleportation Physics Studies, è un report, quindi una sorta di rapporto ufficiale che è stato redatto da questa persona che si chiama Eric W. Davis con un indirizzo ufficiale del suo centro di ricerca Warp Drive Matrix 4849 San Rafael Avenue, Las Vegas, Nevada. E ho suonato a cercare effettivamente questo centro di ricerca che esiste e questo Eric W. Davis ha effettivamente delle pubblicazioni, come dire, all'attivo di una certa serie di ricerche su questo campo. E tra l'altro questa Warp Drive Matrix è una sezione di un istituto di ricerca che si occupa appunto di questi tipi di ricerca di scienze di confine, però vengono condotte in maniera, come dire, corretta e insomma come si deve, in maniera scientifica. Viene anche riportata la scritta sotto questo report, Approved for Public Release Distribution Unlimited, firmato, quindi autorizzato dal Air Force Research Laboratory. Quindi significa che questo report è stato approvato per la diffusione pubblica senza limitazioni sull'uso di questo materiale e evidentemente questo progetto è stato finanziato, comunque richiesto, dalla Air Force Research Laboratory, quindi l'aeronautica essenzialmente. Infatti questi studi sul teletrasporto hanno lo scopo pratico nel lungo termine di sostanzialmente contribuire ai viaggi stellari, interstellari. Quindi sono una certa, una branca di ricerca, che si può chiamare così, di confine, che lavora in parallelo a quella che è la ricerca standard, quindi per esempio migliorare le performance dei razzi spaziali e l'efficienza dei motori, però questi sono tipi di tecnologie che noi già possiamo realizzare, invece questi studi sul teletrasporto sono ancora qualcosa di molto lontano. In questo report, di cui lascerò poi un link nella descrizione del video, perché tanto è disponibile pubblicamente, vengono trattati tre tipi di teletrasporto, anzi quattro tipi in verità, e cioè vengono classificati in questo modo, il WM, teleport, che sarebbe vacuum and matrix, ed è quello di cui parlerò qui, il Q, teleport, che sta per quantum, quindi teletrasporto quantistico, I, teleport, dove I sta per extra space dimension, o parallel universe, questa è la parte più speculativa e fantascientifica vera e propria, cioè prevede l'uso di dimensioni extra e universi paralleli, e infine P, teleport, dove P sta per psychokinesis, quindi sono una serie di ricerche, o comunque di, come dire, evidenze, di fenomeni di teletrasporto dovute a facoltà psichiche straordinarie. Tutti questi meritano di essere investigati, studiati, io ho letto per il momento solo le prime due, quindi vacuum matrix, che sono ricerche legate alla manipolazione della metrica dello spazio-tempo o del vuoto quantistico, e quello quantistico, quindi il Q, teleport, teletrasporto quantistico, che è qualcosa su cui si fa ricerche effettivamente, e si stanno facendo grandi progressi. Inizialmente, quando ho deciso di realizzare questo video, ho pensato solo di parlare di vacuum e matrix, perché il teletrasporto quantistico meriterebbe una discussione a sé, e dopo aver letto questo report, quindi il secondo capitolo, mi sono reso conto che effettivamente lo stato dell'arte era già molto avanzato ai tempi di questo report, che non ho detto all'inizio, ma è del 2004, quindi 16 anni fa, e da allora sicuramente molti laboratori sono stati fatti passi avanti molto importanti, però appunto del teletrasporto quantistico forse ne parlerò in un'altra occasione, e per quanto riguarda le altre due, quindi l'extra dimension, parallel universes e poi quelli psycho kinetic teleport, non ne parlerò proprio perché probabilmente sono solo a livello speculativo o comunque ancora da verificare, ecco. Ma veniamo al WM teleportation, quindi vacuum e matrix. Allora si divide in due parti, la prima parte viene chiamata Engineering Space Time Matrix, che significa sostanzialmente manipolare la metrica dello spazio-tempo allo scopo di creare un wormhole, che è noto dalla relatività generale come un tunnel tra regioni lontane dell'universo, o in questo caso uno Stargate, come nel titolo del film di fantascienza. Lo Stargate è un tipo particolare di wormhole e lo scopo comunque è quello di collegare appunto regioni spaziali distanti nello spazio-tempo. La seconda parte invece consiste nel Polarisable Vacuum General Relativity, che consiste nel modificare le proprietà dello spazio-tempo, quindi a livello di relatività generale, però modificando le proprietà del vuoto quantistico. Quindi questo secondo approccio unisce, in un certo senso, l'approccio microscopico, quello quantistico, a quello macroscopico, che è quello della relatività generale. Però questa seconda parte è un po' meno chiara, ne parlerò di entrambe, ma forse dedicherò più tempo alla prima. Allora, innanzitutto, quando si parla di wormhole o di Stargate, non se ne parla in maniera speculativa, ma in maniera seria, scientifica, e il tipo di wormhole che si cerca di realizzare qui, che viene detto Stargate, è un tipo di configurazione che consiste in una interfaccia, quindi una regione di separazione piatta tra due regioni separate dello spazio-tempo. Si specifica che è piatta anziché essere sferica, perché la soluzione sferica è già stata trovata come soluzione di certe particolari metriche dello spazio-tempo, e per esempio nel film Interstellar il wormhole che viene attraversato dall'astronave a questo tipo di forma, infatti è un buco sferico, viene detto. Quello di cui parliamo qui invece è un buco piatto, un cerchio per esempio, ritagliato nel vuoto, come per esempio, avete presente il portale che usa Rick nel cartone Rick e Morti per passare da un universo all'altro? È qualcosa del genere. Allora, innanzitutto, come si fa a studiare questo genere di cose? Allora, bisogna impurre la metrica dello spazio-tempo che vogliamo realizzare, dopodiché si usa l'equazione di campo di Einstein per dedurre la distribuzione di materia o energia che darebbe origine a questo tipo di metrica. Quindi è un tipo di calcolo relativamente semplice, si tratta solo di scrivere le cose in forma matematica e risolvere l'equazione di Einstein. Allora, vi spiego in cosa consiste il tipo di metrica o di configurazione che si vuole realizzare qui. Allora, ci sono due regioni separate di spazio, che chiameremo omega 1 e omega 2, che sono di tipo mincoschiano, quindi sono uno spazio-tempo a quattro dimensioni ma piatto, senza curvatura. E a queste due regioni di spazio viene sottratta una porzione che consiste in una regione spaziale compatta, quindi un insieme chiuso e limitato di tipo spaziale, e un asse temporale, che però considereremo il limitato. Ora, è chiaro il senso della regione spaziale, perché noi vogliamo mettere in comunicazione due regioni spaziali diverse, quindi dobbiamo creare una separazione tra le due. Mi è meno chiaro il perché dell'asse temporale, però evidentemente è un prerequisito del calcolo. E a questo punto le due regioni vengono unite attraverso una iper-superficie, quindi una superficie 2D, ma nello spazio a quattro dimensioni, che è di tipo spaziale, quindi non ha tempo, è solamente una dimensione spaziale. E questo costituisce il bordo del wormhole, o del stargate. Per chiarire, nel report vi è mostrata un'immagine, io ho cercato di rappresentarla qui, voi la vedrete speculare, quindi specchiata, comunque qui a destra avete la regione Omega 1, in verità voi dovete immaginare che la regione Omega 1 è tutto ciò che sta a destra della linea tratteggiata, e a sinistra invece avete la regione Omega 2. Le due regioni escluse che ho indicato qui con delle barre di sbieco sono la regione spaziale che viene tagliata via da queste due regioni di spazio. Cosa succede quando le unite? Avete quello che si vede sotto. Allora, questa è la visione dell'universo, diciamo, dal punto di vista di Omega 1, quindi tutto ciò che avete intorno è Omega 1. il buco, diciamo, il gap che vedete al centro è la regione che avete tagliato via, e voi potete passare da Omega 1 a Omega 2 passandoci attraverso. Quindi, se voi guardate la stessa regione dal punto di vista di Omega 2, avrete una situazione identica, solo che tutto intorno avrete Omega 2 e Omega 1 è... si accede a Omega 1 passando attraverso questo gap. chiaro che questa è solo un'immagine schematica, quello che si vedrebbe nella realtà forse è qualcosa di più complicato, ma fatto sta che è una realizzazione relativamente semplice di questo concetto. A questo punto, imponendo questa metrica, che è una forma un po' complicata, non ho voluto scriverla, ma comunque tutto sommato si può fare, si trova, risolvendo l'equazione di Einstein, che la densità di energia che si richiede è di tipo negativo, quindi è una densità di massa di energia negativa, che è qualcosa a cui noi non siamo abituati, noi abbiamo sempre a che fare con energie o masse positive. E questo è richiesto, il segno negativo nella massa e nell'energia, affinché questa soluzione sia stabile, quindi affinché il buco, diciamo così, il wormhole non collassi su se stesso. E questo in un certo senso ha senso, scusate il gioco di parole, perché quello che noi vogliamo ottenere è una forza repulsiva che contrasti il collasso gravitazionale, in pratica ogni deformazione di questo genere nello spazio-tempo è associata a una forza gravitazionale e quello che noi stiamo realizzando è qualcosa che vuole, in un certo senso, opporsi al collasso gravitazionale, quindi è qualcosa che richiede appunto un tipo di massa o di energia che viene chiamata esotica. E al momento è difficile capire come procurarsela, ma più avanti dirò qualcosa, a proposito. Più importante ancora, cioè, a parte il problema di come procurarsi la massa di energia negativa, è quanta ce ne vuole per creare questa configurazione. I calcoli producono, diciamo, restituiscono la formula che ci dà che per un wormhole o uno stargate di raggio un metro avremmo bisogno di una massa dell'ordine della massa di Giove, che è dell'ordine di 10 alla 27 kg, quindi è qualcosa che è decisamente al di là di qualunque cosa noi possiamo fare, no? E oltretutto deve essere una forma di energia o di massa negativa, che quindi al momento abbiamo anche difficoltà a procurarci. In verità, questo è appunto un report del 2004, nel frattempo ci sono stati altri studi, per esempio c'è la proposta del mezzo a locomozione o dell'astronave funzionante con la tecnica dello warp drive, che è stato teorizzato da Alcubierre, non conosco di per sé, non conosco i suoi lavori, ma è abbastanza famoso. Lo warp drive di Alcubierre prevede che l'astronave o il mezzo spaziale porti con sé una certa massa, una certa distribuzione di massa o energia negativa, che abbia lo scopo di creare una situazione del genere, ma anziché passare da una regione dello spazio-tempo ad un'altra, questo motore, questo warp drive, tenderebbe a contrarre lo spazio di fronte al mezzo per poi riespanderlo alle spalle, dietro di sé. E questo, secondo certe configurazioni, certe geometrie, permetterebbe di ridurre drasticamente la quantità di massa o energia negativa richiesta a livelli che sono molto più tollerabili, forse qualche centinaio di chili, anziché la massa di Giove. Però stiamo ancora parlando di studi che non hanno nessuna, come dire, ancora nessuno riscontro pratico, perché sono davvero troppo difficili da realizzare. Va bene, ma adesso passiamo alla seconda, anzi non ancora alla seconda parte, ma a un secondo ambito, che riguarda sempre, in un certo senso, il viaggio più veloce della luce o il teletrasporto. Qui si parla di engineering the quantum vacuum, che tradotto sarebbe come manipolare il vuoto quantistico. Questo consiste nell'alterare le proprietà del vuoto quantistico per, in un certo senso, modificare certe proprietà, certe costanti fondamentali, tra cui la velocità della luce. Noi sappiamo che la velocità della luce è una costante universale, valida in tutti i sistemi di riferimento, sto parlando della velocità della luce nel vuoto. Però, a livello quantistico microscopico, la velocità della luce si può, si vede che può essere influenzata dall'interazione dei fotoni con le fluttuazioni del vuoto quantistico. E questa è una cosa inevitabile. Infatti, se uno studia l'elettrodinamica quantistica, vede che, se calcola, per esempio, certe ampiezze di transizioni o certi processi nella teoria delle perturbazioni, osserva che ci sono dei contributi alle ampiezze e quindi alle probabilità che vengono da interazioni di particelle con coppie di particelle virtuali. In particolare, le particelle che contribuiscono maggiormente sono elettrone e positrone, quindi coppie più e meno. E questo è il fenomeno della polarizzazione del vuoto. Quindi, dal vuoto, quindi l'assenza totale di particelle, si creano coppie di particella e antiparticella che poi si annichilano immediatamente. Questo avviene su tempi così brevi da essere inosservabili. Quindi, sono coppie di particelle virtuali, viene detto, quindi non reali. E qui, di nuovo, viene fornito un esempio, un'immagine di come questo debba apparire. Di nuovo lo vedete specchiato, ma tanto qui sono solo simboli. Da destra proviene un fotone reale. Nel vuoto avviene questo fenomeno di interazione con il vuoto, una sorta di creazione dal nulla di particelle. Sopra abbiamo un elettrone e un positrone che vengono rappresentati con frecce di segno opposto per questioni di diagrammi di Feynman, va bene. Al centro viene anche mostrato un altro fotone virtuale che viene prodotto da un altro tipo di vertice di interazione. Questa coppia di particelle si annichila e alla fine otteniamo di nuovo un fotone reale che prosegue. Ma questo processo di interazione conta nel calcolo delle ampiezze dei processi e quindi non può essere trascurato. Queste coppie di particelle sono virtuali, quindi non osservabili. Il fatto che serva una certa energia per crearle non viola la conservazione dell'energia perché tutto ciò avviene in un tempo troppo breve per poter essere osservato. Quindi è tutto lecito a livello di fisica. A questo punto abbiamo capito che c'è questo tipo di processi che avvengono. Le fluttuazioni dei campi quantistici sono inevitabili, ineliminabili, ma possiamo in qualche maniera manipolarle. Come si fa? Allora, innanzitutto le fluttuazioni dei campi quantistici sono associate a certe lunghezze d'onda. Sono chiamati modi, no? Modi di oscillazione. I modi di oscillazione hanno una lunghezza d'onda, un vettore d'onda. E cosa possiamo fare? Possiamo creare regioni di spazio in cui escludiamo certi modi con determinate lunghezze d'onda. E questo è quello che succede, per esempio, in un dispositivo tipo Casimir. Se avete mai sentito parlare di effetto Casimir, è l'effetto che consiste in una attrazione tra due piastre metalliche conduttrici che sono poste molto vicine tra loro e all'interno delle quali viene fatto il vuoto, come sono due piastre di un condensatore. Se sono sufficientemente vicine, noi possiamo escludere dalla regione di spazio contenute tra esse tutta una serie di modi che hanno lunghezza d'onda che è maggiore, se non sbaglio, del doppio dello spessore o della distanza tra le piastre. E questo viene mostrato in questo disegno qua in fondo. Queste sono le due piastre del dispositivo Casimir, questa specie di condensatore. Questi modi che vedete dentro sono i modi normali di questa cavità che hanno lunghezza d'onda uguale a due volte la distanza, la distanza, cioè quindi lambda uguale d e lambda uguale tre mezzi d, quindi sono multipli di una, come dire, di una semidistanza, chiamiamola così. E tutte le lunghezze d'onda che sono maggiori di questa distanza non sono ammesse, anzi maggiori del doppio della distanza, non sono ammesse, sono escluse. Quindi questo esercita una forza netta che tende ad avvicinare le piastre, perché è come se ci fosse una densità di energia negativa all'interno delle piastre o una pressione positiva che spinge dall'esterno. Potete vederla in entrambi i modi. Cosa succede? Che rimuovendo alcuni modi da questa regione di spazio, noi riduciamo l'indice di rifrazione del vuoto o costante di elettrica del vuoto se vogliamo, e questo ha la conseguenza di portare una velocità della luce nel vuoto maggiore di quella normale. Possiamo chiamarla C star, questa nuova velocità della luce maggiore di C. Ora, ci sono altri modi di realizzare questo, quindi non necessariamente ricorrendo a un condensatore tipo Casimir, piastre parallele conduttrici, possiamo imporre per esempio un campo gravitazionale, possiamo applicare dei campi elettromagnetici statici molto intensi per esempio, oppure effetti termici sul vuoto, che non ho ben chiaro cosa siano ma hanno lo stesso effetto dei campi elettromagnetici. In tutti i casi quello che si vede è che l'effetto è piccolissimo. Per darvi un'idea di che ordini di grandezza stiamo parlando, per l'effetto Casimir questa variazione nella velocità della luce che possiamo chiamare delta C su C, cioè delta C, variazione di velocità diviso la velocità della luce, è dell'ordine di 1,6 per 10 alla meno 56 per D alla meno 4 dove D è la distanza tra le piastre dove D è espressa in metri. Quello che è importante è che questo fattore 10 alla meno 56 che è molto grande, molto piccolo, scusate, c'è un fattore negativo quindi è molto piccolo. Per darvi un'idea di cosa significa, se la distanza è 10 alla meno 6 metri, quindi un micron, immaginate di portare queste piastre alla distanza di un micron, delta C su C è 10 alla meno 32 quindi assolutamente al di là della nostra possibilità di osservare. Se la distanza è 10 alla meno 10 metri, quindi un Armstrong che è la tipica dimensione di un atomo, delta C su C è 10 alla meno 16 che forse con certe tecniche interferometriche o laser è possibile verificare. Per distanze dell'ordine di 10 alla meno 14 metri, quindi qualche volta il diametro di un nucleo atomico microscopico proprio, delta C su C è di ordine 1 quindi lì sì che si potrebbe vedere solo che la sfida di portare due piastre parallele conduttrici a quella distanza piccolissima è direi al di là delle nostre possibilità. Addirittura non stiamo parlando più di atomi ma di nuclei quindi non so come si possa fare una cosa del genere. Con i cambi elettromagnetici per intensità ottenibili al momento abbiamo più o meno lo stesso problema quindi queste quantità sono estremamente piccole però gli autori suggeriscono che se noi usiamo campi ultra intensi non per forza stazionari quindi campi statici ma impulsati potremmo riuscire a vedere questi effetti anche se per tempi brevissimi e questo si può fare usando laser ultra intensi. Esistono laser che hanno delle intensità che sono immensamente superiore a quelle dei dispositivi laser che abbiamo tutti i giorni anche quelli a scala industriale che riescono a tagliare del metallo qui stiamo parlando di potenze esageratamente più grandi sono impulsi brevissimi quindi in una frazione di nanosecondo scaricano una potenza immensa. In questi regimi estremi in teoria si potrebbe riuscire a vedere qualcosa però appunto ancora ci sono delle ricerche in questo campo e si sta cercando di vedere cosa si può fare. Adesso arriviamo veramente alla seconda parte che è quella che viene detta polarizable vacuum representation of general relativity in breve PVGR polarizable vacuum general relativity e questo approccio che è un approccio un po' particolare che però interessante consiste in questo allora il vuoto viene visto viene interpretato come un mezzo come immaginatevi un fluido che è un inchie di rifrazione variabile come può essere l'aria l'aria un inchie di rifrazione variabile questo approccio PVGR tratta queste modificazioni le modificazioni nella metrica dello spazio-tempo che sono generate da masse distribuzioni di masse come conseguenza delle modificazioni dell'inchie di rifrazione in particolare delle costanti di elettrica e diamagnetica del vuoto y0 e mu0 quindi questo approccio vede per esempio immaginate un raggio luminoso che si propaga nello spazio viene deviato dalla curvatura dello spazio-tempo per esempio intorno alle masse causa effetti come la lente gravitazionale questo viene immaginato come un mezzo che si propaga scusate un raggio luminoso che si propaga in un mezzo con un indice di rifrazione variabile che ha lo stesso effetto di piegare concentrare o far divergere i raggi luminosi lo stesso effetto che hanno le distribuzioni di massa quindi è un approccio se vogliamo semplificato che però è equivalente a questo punto la conseguenza di questo è che tutte le quantità fisiche come velocità della luce lunghezze tempi energie masse vengono tutte scritte o espresse in funzione di questo indice di rifrazione quindi diventano funzioni di questo indice di rifrazione con determinate potenze per avere la giusta dimensionalità o le giuste leggi di scala diciamo così adesso noi sappiamo da quello che abbiamo detto prima che l'indice di rifrazione del vuoto dello spazio-tempo può essere modificato agendo su appunto alterando le proprietà del vuoto quantistico quindi con il metodo per esempio Casimir o altro quindi questo mette in comunicazione l'approccio microscopico quindi ingegnerizzare il vuoto quantistico e ingegnerizzare la metrica dello spazio-tempo a livello macroscopico quindi questo è molto furbo come sistema per vedere da dove queste modifiche vengono fuori gli autori hanno scritto una lagrangiana quindi la funzione che descrive il moto di una particella in presenza di campi elettromagnetici e scrivendo la metrica che serve per esprimere la lagrangiana scritta come forma quadratica in altre parole in funzione di questo indice di rifrazione variabile e questo porta a vedere che c'è un termine che nasce all'interno della lagrangiana che è dovuto proprio all'indice di rifrazione che si interpreta come l'effetto gravitazionale l'effetto gravitazionale non era incluso nella lagrangiana inizialmente ma emerge per via di questo trucco che viene usato quindi introdurre nella metrica che è una metrica di uno spazio-tempo piatto quindi senza curvatura né nulla con questo indice di rifrazione porta un termine extra che simula l'effetto della gravità quindi è tutto rigoroso e consistente a questo punto cosa si può fare intanto si vede che ci sono diversi contributi a diciamo a modificazioni di questo PVGR quindi Polarisable Vacuum General Relativity questi contributi vengono dalla massa come ci possiamo immaginare dai campi elettromagnetici che abbiamo introdotto per completezza e dalla gravità che viene simulata diciamo così da questo indice di rifrazione a questo punto gli autori considerano che è possibile considerare diverse metriche che possono creare configurazioni che danno origine a effetti per esempio di per esempio di faster than light travel cioè viaggio più veloce della luce warm all per esempio e curvature gravitazionali quindi è possibile metterci dentro di tutto e ci sono tipi di metriche che effettivamente permetterebbero di avere effetti di questo genere per esempio loro citano la metrica Reisner-Norstrom che io non conosco ma citano cioè riferiscono essere una metrica associata a un collasso gravitazionale di una stella quindi geometria sferica simmetria sferica e per certi determinati parametri questa metrica è possibile avere l'effetto worm essenzialmente però riportano anche che ci sono certe difficoltà diciamo certe problematiche che rendono questo impraticabile e quindi è meglio ricorrere a sistemi diversi a questo punto concludono gli autori concludono menzionando possibili modi di procurarsi sorgenti di energia negativa che sono necessari in ogni caso perché dobbiamo avere qualcosa che contrasti la gravità agisca in senso opposto la gravità allora quindi citano il già pluricitato Casimir effetto quindi sistemi per estrarre energia negativa dall'effetto Casimir sistemi ottici quindi sistemi laser diciamo in cavità risonanti che sarebbero in grado di selezionare modi di oscillazione della luce che hanno energia negativa e poi estrarli eventualmente e l'ultimo è quello gravitazionale questo sistema gravitazionale è quello che a me interessa di più e anche loro dedicano più tempo a questo il significato cioè il concetto è che la gravità di per sé è già una sorgente di energia negativa in questo senso immaginate nel vuoto circostante un pianeta una sorgente di gravità si creano queste coppie di particella antiparticella la polarizzazione del vuoto una delle due può venire attratta dal pozzo gravitazionale quindi attirata verso la stella o il pianeta questo crea uno scompenso nell'energia che si manifesta come energia negativa questo è il senso il punto è che questo effetto è minuscolo infinitesimo perché l'effetto gravitazionale sulle particelle virtuali è piccolo per amplificare questo effetto uno dovrebbe ricorrere a sorgenti di gravità molto intense e quindi si parla di buchi neri il buco nero è la come dire il mostro il mostro cosmico che viene che deriva dal collasso gravitazionale di una stella massiccia e da dal punto dal diciamo dal suo punto forte è un intensissimo campo gravitazionale il buco nero si ottiene quando un oggetto di una certa massa collassa al di sotto del suo raggio di Schwarzschild che è un raggio critico una sorta di raggio caratteristico che si può calcolare da soluzione di se non sbaglio la metrica appunto di Schwarzschild e va bene non so se sia la metrica di Schwarzschild comunque il calcolo è stato fatto da Schwarzschild per questo il nome viene da lì e questo raggio di Schwarzschild se si può calcolare ci sono certi esempi per esempio una massa di 10 alla 11 kg che gli autori riportano come esempio di una massa di una montagna per intenderci un'enorme massa di roccia ha un raggio di Schwarzschild di 10 alla meno 16 metri che è quindi inferiore al raggio di un nucleo atomico e questo avrebbe un effetto sulla vuoto quantistico di escludere tutte le lunghezze d'onda maggiori di 10 alla meno 15 metri quindi lunghezze d'onda che sono più grandi di un nucleo atomico sì di un nucleo atomico quindi avrebbero questo tipo di fenomeno diciamo questo tipo di oggetto avrebbe effetti osservabili perché queste sono le tipiche lunghezze d'onda delle fluttuazioni che uno studia per esempio nella fisica nucleare nella fisica delle particelle per corpi più massicci per esempio la terra che è una massa di 6 per 10 alla 24 kg il raggio di Schwarzschild è un centimetro con una biglia quindi se tu prendi tutta la massa della terra e la concentri in un raggio di un centimetro ottieni un buco nero di massa terrestre il problema è che questo ha effetto solo su lunghezze d'onda maggiori di 23 cm che sono lunghezze d'onda tipiche delle onde radio quindi effetti a livello quantistico a livello fisica delle particelle polarizzazione del vuoto non ha grande effetto e quindi sarebbe necessario studiare appunto sarebbe necessario considerare concentrazioni di massa piccole relativamente piccole che però raggiungono dimensioni lineari raggi estremamente piccoli quindi ancora questo è a livello sperimentale livello anzi sperimentale a livello speculativo però gli autori non si non si sono fermati qui alla fine di questo documento hanno proposto alcune implementazioni o comunque alcune linee di ricerca per esempio una delle principali è quella del tentativo di estrarre energia negativa dall'effetto Casimir che è anche il più ovvio visto che l'effetto Casimir si può trattare diciamo così in maniera abbastanza con un certo controllo con un certo livello di controllo e quindi ci sono studi in corso per cercare di estrarre energia negativa appunto dal vuoto quantistico tramite effetto Casimir l'altro consiste nell'usare metodi ottici quindi questi sistemi interferometrici con laser in cavità risonanti e poi suggeriscono di usare un altro approccio laser che consiste nell'effettuare l'esperimento di Ding e Kaplan chiamano Ding e Kaplan io non lo conosco ma a detta degli autori questo permetterebbe di distinguere l'effetto delle fluttuazioni quantistiche nel vuoto quelle che chiamano energia di punto zero zero point energy dall'effetto che sarebbe equivalente in termini pratici dovuto però a cariche elettriche fluttuanti questo è l'effetto che porta alle forze di Van der Waals le forze di Van der Waals sono un fenomeno fisico diciamo che consiste nella trazione elettrostatica tra due corpi o materiali globalmente neutri dove però ci sono fluttuazioni elettrostatiche quindi ci sono dipoli elettrici oscillanti che generano una forza netta attrattiva che però non è associato a fluttuazioni quantistiche del vuoto quindi uno deve poter separare le due cose e infine suggeriscono di usare i laser ultra intensi di cui ho parlato prima che possono raggiungere intensità estremamente alte per sondare testare i limiti della relatività generale in regimi di campi intensi appunto quindi l'idea è quella di concentrare enormi densità di energia in piccolissimi volumi per osservare fenomeni di curvatura dello spazio-tempo indotti da queste enormi densità di energia o eventualmente ah ecco verificare se c'è creazione di energia negativa e eventualmente anche creare micro wormholes e questa è una cosa fantastica io penso che in teoria si possono creare anche buchi neri micro buchi neri infatti se uno concentra una densità di energia abbastanza grande in uno spazio abbastanza piccolo può creare un buco nero anche solo di energia in questo caso siccome si usano laser si creerebbe un buco nero di luce e quello che viene detto un come viene detto un kugelblitz mi sembra il kugelblitz dal tedesco sarebbe sfera di luce mi pare è un buco nero creato dalla pura luce quindi sarebbe un fenomeno così strano comunque questo si poi conclude sostanzialmente questa prima parte VM teleportation ho letto anche la quantum teleportation è molto interessante però come ho detto meriterebbe una parte a sé la quantum teleportation fa uso di entanglement e quindi il fenomeno del quantum entanglement è dominante in questo caso e vengono citati anche i computer quantistici perché il teletrasporto quantistico richiede di incamerare un'enorme quantità di informazione sull'oggetto da teletrasportare per poterlo riprodurre a distanza e una capacità di calcolo così grande è probabilmente solo appannaggio dei computer quantistici ma poi non sono andato oltre nello studiarlo perché comunque è un fenomeno abbastanza ben studiato e niente per quanto riguarda gli extra extra dimension oppure i fenomeni psicochinetici sono impaziente di leggerlo sarà molto divertente però questo se ne parlerà forse un'altra volta per il momento vi saluto e arrivederci al prossimo video grazie